Ciao a tutti! Ciao! Mamma mia, oggi questo maglione mi fa veramente larga larga e vabbè, mi piace il colore. Sai che cosa sembri? Cosa sembri? Il nano da giardino. Come osi! Solo perché lui è alto e magro mi chiede a me nana e pure da giardino. Perché con questo sembra... ti manca solo il cappellino, sembri un bel nano da mettere nel giardino. Vabbè, ti voglio proprio stare a sentire e meno male che io sono una che non se la prende. No, è solo un po' troppo ciccioso, però mi piace un sacco il colore. È bellissimo. Con questa battuta introduciamo nel tema del giardino e quindi di che cosa parliamo oggi? Assolutamente, io mi sono vestita di verde proprio per questo, perché attaccata al fiore c'è sempre la parte verde, no? Ho pensato che parliamo di muffe. Vabbè, vedi come sono già a dire, mi sono inventata anche la risata. Sì, era naturalissima. Io non so il tuo humor da dove deriva, comunque. Allora, oggi vi parliamo... vabbè, l'introduzione non è delle migliori per parlarvi del fiore più celebrato non solo nel mondo delle fragranze, ma anche in letteratura, nell'arte, dappertutto. La tube rosa. Oddio, c'è qua la tube rosa. No, è la rosa. La rosa, ok. Scherzava, scherzava. La rosa che effettivamente è un fiore che... Sta nel giardino dove ci stanno i nani nel giardino. Bene, dai, con sta storia dei nani. Poi te facciamo i conti dopo che chiudiamo la registrazione. Comunque, effettivamente, ho scoperto delle cose molto interessanti sulla rosa, dall'ultima presentazione che ha fatto Courjan sul suo profumo, di cui però non parleremo oggi, ma ne parleremo un'altra volta. Ok. Che non mi ha ancora fatto sentire. Deve essere una sorpresa. La cosa particolare diceva appunto che la grande varietà di rose è esplosa nel 1800, quando è iniziata a esserci l'interesse per le rose e l'ibridazione. Prima praticamente ce n'erano 8-10 specie di rosa. Non so. Ha studiate, ha detto così, io mi fido più di lui che di te. Comunque, che cosa ha detto? Ha detto che c'era questa ibridazione, ha iniziato a creare le rose. C'è questo famoso vivaio a Parigi, non ricordo il nome, ma poi ve lo segnalerò, che è stato quello che ha inventato le rose gialle. Ok. E praticamente ha rifornito tutti i giardini di Bagatello a Parigi dei vari rossetti. E poi diceva una cosa super interessante che molti magari non sapranno, ovvero che nonostante le tantissime specie di rosa, in profumeria si usa solo la damascena e la rosa damascena. Mi guardi in modo strano che cosa c'è? No, 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 no. Sto solo pensando una cosa, poi la dico. La rosa damascena e la rosa bulgara. La rosa damascena è quella di grass. Guarda, ho un attimo di defiance. Dai, stavo aspettando qua, ci siamo preparati, dai. No, tornando sul discorso dei giardini, c'è un bellissimo giardino di rose, rose inglesi, vicino ad Assisi. Solo rose inglesi. E ma qua c'è anche una specialista di rose che adesso ha deciso di mollare il colpo di rose antiche, non mi ricordo in quale zona qui dell'Italia. Comunque, la cosa interessante è che lui diceva che si usano queste due specie, la centifoglia e la damascena. La centifoglia è la damascena. È la stessa cosa, no? La centifoglia è quella di grass e la damascena è la rosa, ora dico, una cazzata. La rosa bulgara. Ah, giusto, vedi? Sì. E vabbè, ogni tanto... Penso, in realtà penso che forse ci sono più varietà che si usano in profumeria, ma in una quantità molto, molto, molto minore. Allora, lui diceva che venivano scelte in base al numero di fioriture, e queste due ne hanno tante, è all'essere spesso dei loro petali, cioè il contrario. Più è spesso e più è difficile tirar fuori la fragranza, più è sottile il petalo e più si riesce a ottenere l'olio essenziale di rosa che poi viene utilizzato e quindi da cui queste fragranze utilizzano solo questi tipi... cioè ce ne... tu ci pensi quante tipi di rosa ce ne hanno e sono sempre quelle due che vengono dette dentro. Ci mettono la rosa o l'assoluta di rosa, però bene o male sono queste due che vengono usate. Sì, perché vengono coltivate con... vabbè, hanno una grande resa di olio essenziale più giusto che assoluta. E anche perché hanno dei petali sottili che consentono appunto di ottenere tanta roba. Ok. Tanta roba. Eh beh, lo so, magari non vi interessava, ma io non lo sapevo questa cosa e magari alcuni di voi non lo sanno e l'ho voluto condividere. Comunque voleva solo distrarvi dal suo maglione, quindi... Sì, il mio maglione è puffoso, adesso sto così, così sembrano meno puffosa. Eh... Partiamo con il primo profumo. Questo è proprio un lancio, un nuovissimo lancio. E... Otoniel rosa di Diptyque. Brand amatissimo, Diptyque. Anche perché è stato tra i primi a esordire nella nicchia. Adesso è diventato meno nicchia. C'erano nonostante... Però... Ha fatto storia e fa ancora delle fragranze. Ha fatto storia. Mmm, questa è una bellissima rosa geraniosa che sulla tua pelle fa schifo, quindi grazie. No, mi sta bene perché c'è dentro il pepe. Ci sono le spezie. Lo sai che non è niente male. Mi piace. È molto speziata questa rosa. Io appena la spruzzo sento subito il pepe. Il pepe, sì, nella prima... C'è una sferzata di pepe nell'apertura, ma poi c'è questa parte non tanto floreale della rosa, ma più verde, più quasi metallica, che mi richiama in mente molto più il geranio che la rosa. Però è molto bella. Però sulla pelle, su di me è rosa. Invece se c'è del geranio, se ce n'è troppo, si trasforma solo in verde. Quindi invece qua rimane sulla mia pelle questa rosa quasi un po' di cuorosa speziata con poi sfumature legnose. Però è una rosa molto profonda. Non è una rosa romantica per nulla. È una rosa per questa stagione, secondo me. A me fa venire in mente una rosa bagnata dalla rugiada la mattina, presto, quando fa ancora freddo, quando non si è ancora... senti tantissimo il suo profumo, ma ti devi avvicinare proprio al fiore. Io invece la sento forte. La sento quasi una rosa piccante col peperoncino. Sento questa cosa che mi solletica. Io il pepe lo sento. Mi solletica proprio il naso. Sento questo essere piccante. Una rosa piccante. Esiste? Ok, non so se esiste una rosa piccante, ma va bene. È una rosa calabrese. Una rosa calabrese, bene. Coltivata in mezzo ai peperoncini e da cui prende... Secondo me verrebbe una figata una rosa in mezzo ai peperoncini. Provo in primavera a piantare il peperoncino vicino alle mie rose e vediamo cosa succede. Ma qua è al nord i peperoncini in territorio lomba... come si chiama? Piemontese. Piemontese, lombardo, sempre pianura padana. Quelli scappano. Vogliono il sole vero. Comunque... Interessante. Da provare sulla pelle. Vai. Vuoi? Sì. Sai che le rose mi piacciono, quindi? Vai, vai. Aspetta, cosa c'è sul retro dell'etichetta? È stata fatta da un artista. Non mi sto a spiegare tutta la storia dell'artista. Qua parliamo solo di profondo. No, perché poi parla solo lei che si inizia a spiegarlo. Eh, non so neanche se ho detto delle cretinate oggi della rosa. No, quello è quello che mi è stato detto da lui. Bello. Sì. Ora sento la parte speziata che dici tu. Sulla pelle riesco a sentire... Sulla pelle esce tanto la parte speziata, quindi è una rosa speziata. Anche la parte legnosa che mi mancava sulla mouillette. Infatti, guarda, sulla pelle cambia completamente ed è molto più calda e meno versione all'alba, il profumo e via dicendo. Sulla pelle è ancora più piccante. Sì. Ok. E' visto. Mi hai convinto. Mi hai convinto, te l'ho venduta. Sono brava io a vendere. Vedi la ruba, appena si distrae la ruba. Non è un problema. Va bene. Io invece, una bella bombazza, Rose and White Mask Absolute di Jomano London. Ammazza. Rose Muschio, vediamo che è lì. Rosa Muschio Oud, se riesco a... Centrale, centrale delle cartiere. E io non gli ho dato da bere, ero ubriaco di sua. che era la prima fragranza di una trilogia di Absolute. Ma questo proprio mi fa venire in mente un velluto. Belluto. Belluto, sì. Una rosa richissima, tonda, profonda, con i petri. Canale. Bellutati. C'è la parte muschiata, anche se il muschio bianco comunque aggiunge un po' di profondità. è l'oud che richiama un po' quella parte animale. Sì, non è male. Non è per niente male. Questa è una rosa anche da pelliccia. Questa è una rosa da pelliccia. Questa, secondo me, bellissima indossata da sola, fantastica in layering con un'altra rosa sopra. o con una fragranza con più oud o dei muschi, per aggiungere ancora più di spessore. Buono. Mi piace. E io adesso ti stupirò le narici con... Non avevo gli occhiali per leggere. Eh, se no mi dimentico. Lo sapete quanti profumi c'ho? Se vi faccio vedere... Allora, Melody dell'Altai, D e la K. E la K, eccola qua. Lei dietro la founder è un naso famosissimo, la Sonia Constant. Hai fatto un'intervista sul blog, giusto? Sì, l'ho intervistata più volte. Lei è la profumiera, secondo me è la più bella profumiera che c'è. È proprio fisicamente alta, questi occhi chiari, un po' felini, capelli castani, nocciola. È proprio una gran figa. Speriamo che altre profumiere non ci stanno ascoltando in questo momento, che potrebbe essere... È bella e poi è simpatica, ma soprattutto ha creato fragranze per Narciso Rodriguez, per Valentino e contemporaneamente anche per brand di nicchia e poi a un certo punto ha fatto questa sua linea. Questa è una rosa minerale. Minerale? Ok. Si è ispirata a un giardino giapponese, perché allora tutta la linea è ispirata ai viaggi che lei ha fatto e alle grandi viaggiatrici di un tempo. E questo è un giardino giapponese, quello con i sassi, l'acqua... hai visto il mini giardini zen? Si. Il boschetto di bambù. Oh... allora io non riesco a percepire la parte minerale, almeno così non riesco a sentirla. Se lo metti sulla pelle è diverso. Sento una bellissima rosa ricca opulenta, che dalla descrizione non me la sarei aspettata. Un po' dolce, quasi caramelata. Si? Tu la senti così? Si. No. Io la sento quasi con tracce affumicate dentro, un po' come se ci fosse quasi anche della gomma. Vedi come è diverso? La gomma, si. La gomma, si. Quella la riesco a percepire. Mi manca la parte minerale, però va bene. Ho un altro bacio, per favore, grazie. Questa è pure un'altra rosa che dà soddisfazione quando te l'indossi. Almeno le rose non mi abbandonano mai, le rose mi stanno bene. Quando mi voglio mettere indosso un po' di fiori vado con la rosa, perché gli altri fiori mi tradiscono. Gli altri fiori proprio mi mortificano. Tipo la tuberosa. Ma anche i gessomini. La maggior parte dei gessomini sono mortificanti sulla mia pelle. Fiori d'arancia? Eh? Fiori d'arancia? Perché comunque diventa un po' acido dopo. Ok. A meno che non sia se è la nota predominante. Se sono di contorno magari sì. Ok. Che ne pensi? Allora. Una bellissima rosa. Sento la parte di gomma. Non sento la parte minerale. Cioè nonostante c'è una parte dolce che potrebbe essere riconducibile a quelle note di gomma. È un qualcosa che mi ricorda una spezia, non so, tipo Kerry, tipo Elicrisi o qualcosa del genere. È stranissima. Sulla mia pelle è stranissima. Però è buona. È buona e molto insolita. Ma tutta la linea c'ha delle fragranze che sono particolari. A me solo una mi stava malissimo. Pure lei mi ha detto mamma mia l'hai ammazzata. Cioè era diventata acida sulla mia pelle. Il resto delle fragranze erano tutte ottime. Poi c'è questa storia del viaggio. Quando l'ho intervistata pure parlava dei vari viaggi. Ognuna proprio è legata a dei viaggi. Lei è una grande viaggetrice. Le piace tantissimo viaggiare. Quindi ognuno di queste c'ha dietro una serie di anedoti relativi al viaggio che sono veramente super interessanti. Ma adesso sono curiosa. No. Cos'è sta cosa? Mi voleva stupire con effetti speciali. Ecco. Si chiama Opera ed è un profumo di Al Jazeera Perfums. Al Jazeera… Al Jazeera. Al Jazeera. Al Jazeera. Non il canale… Ma sì, allora avevo sentito bene. Al Jazeera. Questa è proprio araba. Questa è una rosa araba con una parte quasi polverosa talcata. Però questa è un'interpretazione proprio classica della rosa che è un po' narcotica. Si. Si. Stordente. Letteralmente stordente. Tu considera che quando sono andato a Parigi avevo trovato questa boutique per caso. Ci ho fatto un giretto. Ho provato questa rosa… questa fragranza sulla pelle e continuavo ad andare per mezz'ora avanti indietro, tornare dentro la boutique e dicendo la compro, non la compro, la compro, non la compro, non la compro, non la compro, non la compro. Questa è veramente VUM! Qua. Troppo rosa, troppo floreale. Troppo forte. No, anche wood. È potente. È molto potente, si, si sente. È come se ti versassi addosso un giardino di rose intero. Ancora di più. Una piantagione. Ancora di più. Vabbè, tu comunque mi volevi stupire con quel tuo pack. Si. Guardate, è bello, no? Allora… Vabbè, questo si riconosce da un chilometro… Eh vabbè… Magari c'è chi non lo conosce… C'è chi non lo conosce… By Kiliam… Ed è liaison dangereuse. Zaaah… A parte che lui è un bell'uomo. Io l'ho conosciuto, gli ho fatto delle interviste quando ancora non era stato acquistato dal gruppo Lover. Super Easy, nonostante è stramiliardario, erede della famiglia dei cognac NSC e nel gruppo il padre è affondato con quello di Vuitton LVHM. Super Easy, sempre vestito di bianco e nero. Sì. No? Camicia bianca, giacca nera, jeans super slim nero e la cosa che mi piace di lui è che i suoi profumi hanno tutti dei nomi… sono gli unici nomi che mi ricordano perché sono o di qualche film famoso o di qualche canzone famosa e quindi sono molto semplici da ricordare… O qualche quadro… O qualche quadro… ma comunque non è il classico film, in questo caso appunto Le reazioni dangereuse era il film famoso, le relazioni pericolose, non so, vabbè voi magari siete giovani chi ci ascolta però c'è stato questo film che è stato famosissimo perché Megatoria, all'epoca Glenn Close andava per la maggiore… Glenn Close, Markovic, Michelle Pfeiffer, Mathurman giovanissima e Kenny Reeves… Anche Kenny Reeves giovanissimo ed era un film che si incentrava sulla… a parte che il film praticamente è un adattamento di un libro oppure il famoso… Sì, un romanzo, sì. E… Incentrava essenzialmente sulla figura di queste due persone molto intriganti che erano la Madame de Tourneille e Valmont che giocavano… giocavano sul destino degli altri, no? Sì. E si divertivano a… per i loro giochi a rovinare… Povera se sì… Le vite altrui… Le vite altrui… ed erano due grandi seduttori… Comunque, il profumo ha preso il nome… … Qui… Non c'è solo la rosa… Però la senti… Però la senti… Però la senti… Beh no, un po' più trasparente… Intrigante subito dall'inizio… Perché ti… Ti fa sentire la rosa… Ma ti fa sentire anche… Che ci sia qualche cosa in più… Sì, mi fa… Se dovessi parlare del personaggio del film… Questa non è la Madame de Tourneille… C'è questa parte fruttata… Che non abbiamo sentito nelle altre fragranze… Questa qui mi fa pensare in mente… Neanche alla Michelle Pfeiffer… Perché è più romantica… Era quella… Non ricordo il nome della… Del personaggio… Ma la Michelle Pfeiffer… Era quella che era innamorata di… Di Valmont… Questa la vedo… Una rosa più da Uma Thurman… Il personaggio di Uma Thurman… Un po' naif… Sì… Nel senso che… Una rosa un po' più… Non è romantica… No… Non è romantica… Neanche cattiva… Intrigante… No… È una… Con il fatto che c'è la parte fruttata… È una rosa un po' più giovane… È una rosa un po' più fresca… È sempre comunque sfaccettata… È sempre… Non il profumo che al… Al primo… Sniffo… È piagione… No… È cattura l'attenzione… Perché comunque… È un profumo… Sfaccettato… E complesso… Però… Non lo vedo come un profumo… Di una donna adulta… No… È… Ha questa… Questa… Questa nota di… Di pesca… Le dà quella… Da quella sensazione di… Una rosa fanciulesca… Non ancora matura… Un po' acerba… Ma che… Lì… Lì… Per diventare donna… È la Uma Thurman… Mh… Eh… Io Uma Thurman… Me la ricordo come Poison Ivy… Da… Da… Da Batman… Quindi… Ho una concezione… Direi un po' diversa… No… Lei era uno dei primi film che ha fatto… E c'era lei… Appunto… Che era… Ancora… Diciamo… Era ragazzina… Si… Interpretava la ragazzina… Che si avvicina ai primi amori… È interessante… Interessante… Sono anni che non sento questo profumo… Però… È un profumo che… Per le amanti della rosa… Non è per niente male… Della rosa insolita… Poi… Sì… Perché c'è… Predomina questa parte… Un po'… Fruttata… Allora… Dimmi… Che cosa hai scelto… La mia rosa… La mia rosa… Allora… Allora… Parlando dell'ispirazione… Rouge Bengal di… Papillon Artisan Perfumes… Sul blog Beauty Scenario avevamo fatto… Un… L'intervista alla founder… La fragranza ispirata… Bengal Rouge… Al suo gatto Bengala… Al profumo della sua peliccia… Dopo una passeggiata fuori… Un gatto rosso… E la rosa… Ci sono delle spezie… Sì… Assolutamente sì… Chiodi di garofano… Sì… Non so se sono… Chiodi di garofano… Cannella… Mi sembra… Lo sai che cosa… Tipo il vin brulè… Eh… Il vin brulè… Perché… Il vin brulè assomiglia un po'… Ha della rosa… Sembra che c'è dentro rosa… E… Quando passa questa apertura… Così… Quasi liquorosa… Sì… Tu trovi… Una polverosità… Una… Una… Matericità della fragranza… Che puoi davvero dire… È un profumo di… Da peliccia… O di una peliccia… Del pelo del gatto… Sì… Capito… C'è chi… C'è chi… C'è chi di… Eh… Come si chiama… Che… Chi crea… Chi omaggia i gatti con un profumo… E noi… Ci abbiamo gatti invece… Poverini… I gatti non ci omaggiano con niente… Eh no… Siamo noi che dobbiamo omaggiare… No… Aspetta… Il… Il mio gatto c'è un giocatolo… Che è un topo… Me lo trovo tutte le mattine sul letto… Vabbè… Il mio… Glielo lancio e me lo riporta… Glielo lancio e me lo riporta… Come un cane… Ah… Bene… Mi piace… Vedi che sta cambiando… Sì… Comunque… Questa è una rosa… Che sulla tua pelle potrebbe diventare… Niente male… Questa è una bella rosa… Al contrario di quella araba che mi prendeva qua… Ok… Questa mi piace… Questa è interessante… Io amo molto le sue creazioni… Le trovo molto interessanti… È una… È una casa inglese indie… E trovo il suo approccio molto… Molto interessante… Poi lei lo dichiara apertamente… Si ispira alle fragranze vintage… In questo caso… Anche alle fragranze tipo Shalimar… E ci puoi riscontrare… Lo stesso… Lo stesso tipo di… Profondità… Lo stesso tipo di… Ispirazione… Bello… Mi piace… E quindi oggi abbiamo finito… Ah… Quindi per… Scriveteci nei commenti… Le vostre fragranze con la rosa preferita… Preferite… Preferite… Perché questa sarà la prima di tante puntate dedicate alla rosa… Sì… Perché ne abbiamo veramente tanti di profumi… E comunque la rosa veramente… La rosa è molto più versatile di altri… Di altri fiori… Perché veramente… A seconda di come la metti… Abbiamo sentito delle rose che erano una diversa dall'altro… Mentre invece tipo i fiori bianchi sono più… Più simili… Dipende da come vengono lavorati… Ma spesso hanno lo stesso carattere piuttosto… Narcotico… Sì… La rosa può essere molto fresca… O pulenta… La rosa cambia veramente tantissimo… La rosa è un bellissimo fiore… Nella profumeria… Proprio… Molto interessante… Sì… Allora… Like a palla… Commenti a palla… Iscrizioni… Parlate di noi a tutti… Ai vicini… Fate un comizio… Chiamate tutti… Visto che adesso siamo costretti a casa… Chiedete ai vostri amici… Non passare il tempo a vedere cose che non servono nulla… No… Vedi… Ti racconto un profumo che… Ti fanno ridere… Ecco… Perché sono un po' sciocchi… Sì… Ti fanno ridere… Scriveteci i vostri pareri nei commenti… Ciao a tutti… Seguiteci sui nostri social… Sì… Vanessa Caputo… Healthy Garden… Ti racconto un profumo… Facebook e Instagram… E… Per oggi è tutto da Andrei… E io andiamo da Giardino Vanessa… Adesso che chiudiamo… Vedete che faccio… Uno lo sa che è in casa di una cala a prese… Lo muro vivo… Ciao… Ciao…